buongiorno a tutti e tutti benvenuti nel salotto stratego e diamo subito il benvenuto al nostro ospite alessandro mambretti expert production printing solution di chiosera italia chiosera document solution italia per dirla tutta l'alexia bravisti ma hai vinto l'ha vinto primo dello show di lingua e questo è sempre sempre anche tre anni fa era stata drammatica quindi non ti preoccupare ma anche ogni tanto mi imbarazzo quindi buongiorno a tutti e grazie di averci ospitato qua in questo salotto e ben ritrovato a tutti intanto ricordiamo i nostri ospiti che c'è un bottone perché per fare le domande a fine puntata e siccome abbiamo moltissime cose da dire sicuramente anche le domande solitecheremo la vostra curiosità allora intanto e poi spoilereremo anche tanto quindi mettetevi comodi ma mantenete alto il livello di attenzione perché siamo proprio sul filo del embargo quindi siamo borderline diciamo subito anche il nome della protagonista di questo di questo incontro che è chiosera tasca alfa pro 55000 c e parliamo anche del titolo che già il titolo rivela delle caratteristiche di questa macchina l'abbiamo scelto bene anzi l'avete scelto bene devo dire parla dell'ing jet eccellente e sostenibile per la stampa commerciale ma prima di tutto lasciami fare una piccola digressione torniamo indietro tre anni fa quando chiosera entrata nel mercato del production printing esatto esatto quindi no cioè c'è entrata tanti anni fa con le teste di stampa però con le macchine proprietarie tre anni fa eravamo sempre qui in questo salotto e presentavamo la sorellina minore della macchina di oggi che era la 15.000 esattamente esattamente nome sempre lo stesso ma 15.000 è piaciuta il mercato italiano devo dire che si dai tre anni fa era una scommessa una scommessa ben pensata però pur sempre una scommessa quando si entra in un mercato che è maturo con player importanti che già operavano da diverso tempo e devo dire che invece è stata una scommessa vinta oggi abbiamo avuto soddisfazione sia per il numero di macchine installate ma soprattutto per i volumi di stampa e quindi proporre una macchina di nicchia in un mercato già maturo non era una scommessa facile da raccogliere ma ci avete portato fortuna quindi eccoci qua di nuovo questi tre anni sono stati molto profiqui è stata un'altra sorpresa nel frattempo che questa mi ha stupito ancora di più se posso dire sì io ho ricevuto un invito per itma a visitare il vostro stand e ho trovato una stupenda parte quel vestito bellissimo principesco ancora c'è ancora ancora ma è stato stampato e con for art allora for art è il primo prodotto industrial printing di chiosera sviluppato intermente da chiosera nel settore dell'industria tessile e porta dentro tutte le valenze che ha chiosera nella propria filosofia quindi un sistema di stampa in jet quindi fu figlio delle nostre teste di stampa che praticamente riduce a zero l'utilizzo di acqua per quanto riguarda la stampa è stata proprio una novità sul mercato è stata una fiera che ci ha visto coinvolti anche a noi in quanto italia noi poi saremo democenter europeo per questo per questo prodotto e ha visto parecchio interesse da sia dagli stampatori del settore sia diciamo da tutto il movimento degli sviluppatori perché è un ulteriore passo in avanti di chiosera nel mondo della nuova divisione commercial industrial printing solution che è il nuovo motore che chiosera sta mettendo in campo per lo sviluppo nell'area nell'area della stampa quindi il portfoglio in jet di chiosera vorrà coprire tutti i segmenti della stampa non solo diciamo per le artigrafiche quindi gli stampatori ma anche il settore industriale manifatturiero e poi anche il settore della delle aziende esattamente sì esattamente esattamente diciamo che abbiamo messo mano al nostro know how per sviluppare macchine sempre con quella logica che a contraddistingue chiosera di una forte sostenibilità declinata sotto diversi punti di vista sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico della facilità di utilizzo e questo è quello che diciamo porta chiosera nel mondo dell'industrial printing certo il comune denominatore di tutte le vostre soluzioni ma torniamo alle nostre artigrafiche perché siamo qui per lei esatto di lei allora la nostra tasca alfa pro 55000 c allora la vedremo a drupa sicuro stato spoilerato questo che ci sarà però adesso qui qualcosa dobbiamo dire dobbiamo raccontare qualche cosa allora intanto abbiamo detto che si inserisce nel mercato del commercial printing che è un mercato che negli ultimi tempi ha avuto dei grandi scossoni e dei grandi mutamenti cambiamenti posso dire quasi rivoluzioni perché c'è stata una fortissima transizione digitale in questo in questo ambito e cosa è cambiato le tirature si sono accorciate tempi di consegna sempre più rapidi cambi lavoro sempre più veloci questo just in time che bisogna sempre rincorrere però anche la personalizzazione insomma tutta una serie di caratteristiche che hanno visto cambiare un po' la domanda del mercato e quindi le esigenze dello stampatore e sembra che proprio che la 55000 sia proprio studiata per questo giusto? sì è giusto esattamente esattamente infatti la 55000 è una macchina che si posiziona a fianco della 15000 e nasce proprio con la logica di cogliere questa transazione digitale che è ancora tuttora in corso perché è ancora tuttora in corso? Per il semplice motivo per cui il mercato è maturo il mercato si sta trasformando ulteriormente nella sua gestione dei lavori nella sua richiesta di trovare nuove soluzioni di produttività e di flessibilità ed ecco che abbiamo individuato con Tascalfa Pro 55000C una nicchia all'interno del mercato delle arti grafiche che doveva coniugare la sempre più come detto te giustamente richiesta di stampa digitale per rispondere a un'esigenza di immediatezza e per rispondere a un'esigenza di parcellizzazione del lavoro ma allo stesso tempo avere quei criteri di produttività propri del mondo della produzione diciamo convenzionale tipicamente quella del mondo offset tanto per dare un riferimento quindi nasce un po' con questa nasce con questa logica per accontentare lo stampatore in tutto per tutto esattamente esattamente facciamo te la faccio difficile in una parola sì definiamo in una parola questa macchina che è un esercizio di stile difficilissimo questo ma la parola che forse più in assoluto descrive bene la 55000C è la parola immediatezza perché immediatezza? perché questo porta dietro ovviamente tutta una serie di ragionamenti sia immediatezza produttiva sia immediatezza nella facilità di utilizzo della macchina ma la tasca alfa pro 55000C ha avuto un lungo periodo di sviluppo è un lungo periodo di messa a punto proprio perché il concetto è che doveva essere una macchina che sia molto semplice da utilizzare dagli operatori di stampa e quindi sia facilmente implementabile nei flussi di produzione già presente perché questa è la realtà dei fatti immediatezza anche nel calcolo nel calcolo economico per noi è sempre stato un punto fondamentale questo cioè avere la certezza dei costi avere chiaro qual è la logica di investimento capire quali sono i benefici produttivi ed economici per il cliente in modo tale che sia immediato capire se questa macchina fa al caso loro oppure no insomma una parola che ha dentro tantissimi significati mi pare di capire esatto esattamente avete proprio le idee chiare devo dire molto chiare è bella la parola immediatezza mi piace molto e poi anche questa cosa del TCO l'avevamo approfondita anche con la esattamente che era un punto chiave bene però diamo anche qualche numero dai a me è un numero impressionato 5 milioni di impressioni al mese però come si traduce in termini di produttività e di velocità di stampa allora stiamo parlando di una macchina che fa 150 impressioni minuto costante quindi una macchina che già dice questa produttività mensile di 5 milioni di copie questa velocità è una macchina pensata per lavorare tranquillamente anche su tre turni di lavoro quindi può soddisfare molte esigenze differenti esigenze e ha come caratteristica il fatto che ha legato a questa capacità produttiva una elevata capacità carta e un'elevata autonomia di inchiostro considera che a bordo noi montiamo 6 litri di inchiostro per ogni colore due tanniche da 3 litri sostituibili on the fly questo permette sostanzialmente di mantenere costante la produzione e di non avere stop infatti prevediamo un up time di produzione oltre il 90 per cento per questo per questa macchina bene se vogliamo aggiungere qualche altro numero su questi oltre a questi 5 milioni di stampe come sono fatte questi 5 milioni di stampe? lavoriamo con una risoluzione con le ultime teste di stampa che ho sera questo è l'ultimo sviluppo delle nostre teste di stampa lavoriamo con una risoluzione di 1200 per 1200 quindi una macchina che utilizza il massimo dal punto di vista della risoluzione gocce molto fini da 1,5 piccolitri quindi dà un po' l'idea dal punto di vista tecnico anche dove possiamo arrivare dal punto di vista della definizione della brillantezza del colore del dettaglio è per quello che è una macchina destinata al mercato commerciale da questo punto di vista sai che mi hai stupito perché io la domanda sulla qualità non l'avrei fatta perché dico insomma le teste che ho sera sono note in più sono note in più però hai fatto bene ad approfondire anche questo dettaglio perché era un numero che ci piace anche quello c'è un'altra parola che è meno originale di immediatezza si usa di più però è un punto chiave per gli stampatori la parola flessibilità perché gli stampatori sai devono avere una soluzione smart per essere competitivi sì quindi allora preciso non abbiamo scoperto non abbiamo la lampada di aladino però abbiamo una macchina che è in grado di essere molto flessibile per gestire diverse richieste di produzione cosa significa essere flessibili nel mondo dell'injet significa intanto avere dei setup di macchina molto veloci setup di macchina che vogliono dire possibilità di caricare un vasto range di supporti e TASCALFA PRO 55000C ha come dire un punto che per noi è importante la possibilità di stampare su qualsiasi carta patinata ad uso offset quindi non dobbiamo utilizzare carte primerizzate sostanzialmente e questa flessibilità quindi del vasto range di supporti che possiamo andare a utilizzare quindi patinate, uso mano, martellate, vergate quindi diciamo un po' il bouquet di carte che uno stampatore ci può richiedere è data anche dal fatto che abbiamo una gestione dei workflow estremamente semplice che permette di avere più settaggi di macchina in linea e quindi avere un cambio repentino tra un lavoro e l'altro semplicemente cambiando il supporto mantenendo costante quello che è la parte di colorimetria e mantenendo costante anche quella che è la parte dei consumi di inchiostro che come sappiamo nel mondo dell'injet è estremamente rilevato un altro tema che vorrei richiamare un po' all'attenzione è quello dell'automazione si parla tantissimo di questo soprattutto per quanto riguarda il controllo qualità il controllo colore, cosa ci dice riguardo? Allora su questo abbiamo lavorato parecchio, abbiamo lavorato su due fronti fondamentali uno l'automazione del flusso di lavoro e per quello sono stati sviluppati due controller che rispondono ad esigenze differenti abbiamo un controller 100% FIRI ultima generazione e un controller Chiosera rispondono a due esigenze differenti quindi due campi di applicazione differenti all'interno di questi controller sono presenti tutta una serie di tool che servono per potersi integrare in flussi di lavoro già presenti o costruire ex novo dei nuovi flussi di lavoro dall'altra parte abbiamo a bordo della macchina dei sistemi di controllo in linea che vanno a toccare un po' quelli che sono gli aspetti cruciali del mondo dell'injet dal punto di vista qualitativo quindi stiamo parlando del controllo del jet out per evitare le linee bianche abbiamo il controllo di colore in linea questo fa in modo che durante la produzione questo controllo costante comunichi direttamente con le teste di stampa e quindi risolva eventuali problemi che possono andare a generarsi perché essendo una macchina a produzione bisogna prevedere tutti gli aspetti che riguardano la produzione in toto dal punto di vista poi sempre della facilità di utilizzo e quindi dell'automazione tutte queste funzionalità sono rinchiusi all'interno di profili di gestione della macchina che permettono quindi di creare vari scenari di lavoro quindi l'operatore che dovrà stampare dei cataloghi avrà un certo tipo di impostazione di macchina l'operatore che invece si troverà come commessa di dover stampare magari dei blister su un cartone da 400 grammi avrà altre impostazioni di macchina che ovviamente permettono di avere un pieno controllo sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista della gestione della macchina vera e propria quindi smart e user friendly smart e user friendly esattamente per usare due termini molto in alto io so che ti parla sempre che non si trovano gli operatori nel mondo delle arti grafiche qui è un po' un invito a nozze eh sì 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 ma sai quando si pensano queste macchine si devono pensare un po' a 360 gradi esatto e un po' il digitale ce l'ha insito di dover essere smart certo diciamo nasce un po' con quella logica che lo si aspetta insomma ce lo si aspetta sempre di più esattamente abbiamo detto che trattandosi di una macchina a quanto capisco molto versatile sì in quali ambienti cioè io la vedo in ambienti sia di produzione con un finishing fuori linea in modo che si possa spaziare dalle più diverse applicazioni ma anche in ambienti dove si producono applicazioni molto verticali quindi magari con un finishing in linea che dici sì allora anche lì anche questo è l'altro aspetto fondamentale di fare una macchina che sia versatile e flessibile perché? perché quando tu introduci un nuovo sistema all'interno della tua azienda misuri sostanzialmente sia la capacità produttiva della macchina ma poi vai a vedere quanto impatta su tutto il workflow specialmente sulle linee di finitura ecco su questo abbiamo la possibilità di avere una serie di sistemi di finitura in linea che permettono di realizzare opuscoli e manualisti classica diciamo da punto metallico con tagli trilaterali ma in più abbiamo sviluppato un'interfaccia specifica che ci permette di interfacciarsi direttamente con altri gruppi di finitura quindi per quei clienti che hanno bisogno di verticalizzare alcuni aspetti produttivi è possibile fare questo tipo di lavoro veniamo già dall'esperienza della TASCALFA PRO 15000C che già ha questo tipo di possibilità che è stato oggetto di ragionamento nell'ultimo anno e quindi di cogliere esattamente le esigenze del cliente quindi diciamo modellare quasi una macchina DOC per la sua esigenza qua invece abbiamo ancora aperto le possibilità di collaborazione questo è poi uno dei focus su cui ragioneremo da qua in avanti sostanzialmente di fare delle partnership di lavoro proprio per costruire dei flussi di lavoro che siano il più semplici e immediati possibili e dare delle risposte perché non dimentichiamoci che poi il nostro ruolo è quello di dare delle risposte a delle esigenze specifiche cioè quando i clienti vengono da noi per chiedere di realizzare determinati prodotti o hanno in mente di realizzare determinati prodotti dobbiamo trovare la miglior soluzione all'interno della nostra specifica sostanzialmente quindi trovare il giusto ballast a questo punto certo infatti anche se si leggono tutti i focus per i prossimi anni le partnership e le OEM sono uno dei punti principali proprio per accontentare lo stampatore il cliente in tutte le sue esigenze proprio costruendo una macchina DOC esattamente beh nel titolo c'è sostenibilità non possiamo non dire qualcosa allora certamente in termini di sostenibilità abbiamo operato anche qua come dicevo all'inizio su due fronti c'è la sostenibilità dal punto di vista ambientale e la sostenibilità dal punto di vista economico sostenibilità dal punto di vista ambientale si coniuga intanto con la formulazione dell'inchiostro che è un inchiostro base acqua pigmento polimerico proprietario giusto? sviluppato insieme a screen questo l'abbiamo sviluppato insieme a screen perché questa è anche un'altra caratteristica di Chiosera tende a trovare sempre la miglior soluzione che c'è sul mercato non è detto che devi sempre partire da zero quindi questo è un punto fondamentale quindi abbiamo sviluppato assieme questo inchiostro che ci permette sostanzialmente di poter mantenere la produttività su tutte le grammature ricordo che la macchina va dai 52 ai 400 grammi come range di grammature quindi un range molto grande sì sì non l'avevamo detto era un numero che c'era sfuggito un numero che c'era sfuggito sì ma mano a mano le tiriamo fuori rispoileriamo tutto rispoileriamo tutto accidenti l'embargo? fa niente no no su questo non ancora non ancora avanti quando abbiamo le slide vediamo l'embargo ah ok ok abbiamo la quindi manteniamo le impressioni su questo tipo di grammature e questo grazie a questa formulazione di inchiostro abbiamo un forno mild IR quindi un forno che utilizza la tecnologia infrarossa per poter asciugare l'inchiostro non c'è modo altrimenti di poterlo asciugare a quelle velocità sostanzialmente che quindi avrà un consumo energetico sicuramente superiore alla 15.000 però vabbè 15.000 era un campione di non consumo elettrico quindi poi si sta anche essendo una macchina più produttiva esattamente gioco forza interessante è che il forno si attiva o si è già attiva per quello dicevo gli scenari in funzione dei supporti perché quando andiamo a lavorare ad esempio sul supporto uso umano il forno non è necessario di asciugatura e quindi la macchina consumerà di meno risponde in modo intelligente anche su questo fronte esattamente esattamente quindi sostenibilità declinata su una anche poi su una logica di l'icephalic assessment del prodotto quindi anche come è stato sviluppato il prodotto come sono state sviluppate le tanniche i materi i rifiuti che sono generati che sono veramente pochissimi si riguardano le tanniche sostanzialmente e alcuni liquidi di pulizia della macchina per il resto sono rifiuti e rifiuti che sono tranquillamente smaltibili senza particolari accortezze ma per il resto la macchina è veramente una macchina che fa della sua sostenibilità uno dei suoi punti di forza l'altro aspetto è la sostenibilità economica come adesso ho detto cosa significa sostenibilità economica? continuiamo a spiegarlo perché una macchina soddisfa tante esigenze ma ogni cliente ha la sua esigenza specifica e allora ecco che qua si entra un po' nel ragionamento di analisi specifico cioè quali sono le esigenze reali del cliente rispetto a una macchina come questa quali sono le necessità di produzione quali sono anche le attese qualitative che un cliente si aspetta perché in un panorama molto vasto di macchine ogni macchina copre sostanzialmente tutte le o un'esigenza specifica meglio di altre quindi questo questo è il bello della concorrenza sostanzialmente questo è il lavoro dei clienti io gli ho detto i clienti hanno un lavoro quello di tenersi aggiornato su quelle che sono le realtà che ci sono nel settore delle arti grafiche ecco che la sostenibilità economica viene fuori da che cosa da un mix di produttività da un mix di consumi di inchiostro quindi il tipo di lavoro che si vanno a stampare sopra da quanto la macchina dovrà lavorare ma cosa ancora più importante da quanto io sono in grado di far funzionare questa macchina in modo costante e questo è un fattore estremamente importante l'esperienza di questi tre anni ci ha dimostrato che questa logica di approccio che rende un po' più difficile il ragionamento con i clienti perché chiede di sostanzialmente mostrare i numeri veri ha un ritorno però proprio sui clienti stessi notevole perché permette di avere maggiore intanto di avere quell'immediatezza che dicevamo del ritorno dell'investimento ma anche maggiore contezza anche su altri investimenti di tipo che vengono fatti quindi un momento di riflessione maggiore anche perché come tutte le macchine digitali questa ha una sua vita che è espressa anche questa in cinque anni sostanzialmente quindi questo è un po' il suo ragionamento certo ricordo che questo approccio all'analisi così approfondito del cliente era stato un punto di forza esatto in 10.000 è anche un vostro approccio diciamo è proprio una costante una cosa in cui noi crediamo molto anche perché in un panorama come tu giustamente hai detto che è in continua mutazione ogni azienda ogni cliente ha il suo approccio non c'è un approccio standard ha il suo approccio e quindi dobbiamo necessariamente metterci in una posizione di ascolto essere molto chiari quindi noi conoscere molto bene il nostro prodotto ed essere molto chiari nelle risposte che dobbiamo dare per trovare quel punto di contatto faccio un esempio anche qua magari che può e così diamo anche altri numeri parliamo del formato di stampa il formato di stampa fa da un formato 10-15 fino a un formato 33x48 che è un po' lo standard del mondo digitale in realtà la macchina lavora anche fino al formato 33x1 metro in bianche volta automatico e per come è strutturata poi lo vedremo è pensata proprio per fare quel tipo di produzione la domanda classica che verrà fatta dopo vediamo se arrivano le domande ma perché non fate la macchina 35x50 perché è uno dei grandi mantra quando stavamo facendo le analisi in realtà la macchina è già predisposta per poter fare il 35x50 perché ha un'area di stampa utile di 33x5 quindi è un'area di stampa molto ampia ma di fatto nel mondo del digitale la produzione si è attestata su quel tipo di formato e quindi l'ottimizzazione del formato che deriva un po' dal concetto del click legato al mondo del toner sul mondo dell'ingjet viene meno si smonta sostanzialmente perché mi riallaccio al ragionamento che tu facevi se io guardo alla finitura cerco il miglior prodotto per andare in finitura e quindi cerco la miglior soluzione per poter ottimizzare tutto il processo di stampa proprio in questi giorni stiamo affrontando questo ragionamento con un cliente su cui stiamo lavorando su formati differenti proprio per riuscire a ridurre il numero di scarti ma soprattutto essere molto veloci nella risposta di produzione da parte dei clienti di piccole pezzature spesso ripetute quindi il discorso di avere una macchina che sia in grado di rispondere bene e produttivamente a le diverse esigenze dei clienti è nella filosofia di Fili Chiossera e noi la decliniamo appunto con questa analisi approfondita che facciamo assieme faccio una battuta una macchina che va dall'analista per risolvere tutti i problemi è una macchina che viene con l'analista esatto prima della macchina viene l'analista ottimo ottimo se mi permetti ti stoppo in un secondo visto che abbiamo parlato macchina 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 non rubarmi la domanda va bene le applicazioni parliamo di applicazioni siamo ambiziosi siamo ambiziosi andiamo ovviamente da quello che è il mondo dei cataloghi che stiamo assistendo in questo momento a una forte contrazione di quel mercato contrazione che si porta dietro il ragionamento meno pezzi li voglio magari proprio spesso quindi andiamo quindi da quel tipo di mercato al mercato fotografico a tutto quello che è il mercato del direct mail a tutto quello che è il mercato del libro sia della scolastica sia del mondo della sia della narrativa sia del mondo dell'illustrazione quindi stiamo parlando di una macchina che è molto flessibile che cosa determina la sua flessibilità proprio il fatto che risponde in modo adeguato ai vari tipi di supporto che noi possiamo andare a mettere in macchina quindi il lavoro più grosso è proprio capire quali sono i supporti su cui andare a lavorare e vedere la risposta che si vuole andare a ottenere le applicazioni che noi prevediamo sono appunto queste e sono pensate con quell'ottica che dicevamo prima di essere una macchina che o supplisce a un'esigenza già presente in azienda di flessibilità o che va ad introdurre una nuova area di produzione all'interno delle aziende certo quindi permette sia di coprire tutta l'area commercial e anche editoriale mi viene da dire in questo punto ma anche permette di sviluppare nuovi anche nuove cercare nuovi mercati nuovi mercati nuove aree applicative nuove aree applicative poi sappiamo che i clienti sono molto creativi noi non ci tiriamo indietro e quindi cerchiamo infatti ricordo gli esempi che mi avevi postato a proposito non c'è un sample abbiamo qualche prova di stampa che stiamo portando in giro a far vedere i nostri clienti ecco tende qua qualcuno insomma se vogliamo farla vedere abbiamo le prime prove di stampa che sull'incarnato hanno sempre esattamente nel settore moda ok quindi stiamo affrontando vari ambiti certo vari ambiti si parla di appunto cataloghi piuttosto che magazine esatto poi abbiamo qui siamo nell'ambito della promozione turistica quindi sempre ambito cataloghistico promozione turistica queste che vedi sono tutte stampate su carte patinate gloss quindi abbiamo questo e poi abbiamo anche ovviamente il risultato su carte di tipo uso umano come queste come prodotti come questa e come puoi vedere abbiamo sia colori vibranti sia un livello di dettaglio su applicazioni come queste che ci permettono sostanzialmente di dare una risposta alle esigenze che vengono chieste anche perché sull'ingetta spesso c'è un po' di come dire di necessità di dover fare chiarezza su quello che è la risoluzione su quello che è il dettaglio ad esempio una delle caratteristiche che abbiamo sviluppato all'interno con queste teste di stampa che abbiamo a bordo è la tecnologia smooth edge cioè una tecnologia che permette sostanzialmente di mantenere i punti ben definiti sul supporto in modo tale che anche nei punti di maggior dettaglio resti morbido resti morbido la stampa e in questo modo riusciamo ad ottenere con questa morbidezza il dettaglio percepito perché poi questo è il bello dell'ingetta una morbidezza generale della stampa allo stesso tempo un livello di dettaglio molto elevato lo confermo io li sto osservando da vicino dal video non si vede però e poi verremo presto a trovarvi e ci invitate io ve le faccio vedere da vicino io e mio collega Maurizio siamo pronti allora adesso che abbiamo stuzzicato tutta questa curiosità bisogna aspettare Drupa per vedere la macchina no abbiamo dai qualche cosa la possiamo far vedere chiedo alla regia se mi fa se mi mette due slide che facciamo vedere allora intanto questa è la macchina e come vediamo è una macchina importante non è neanche sviluppata in tutta la sua lunghezza è Tascalfa Pro 55000C è una macchina anche qua composta da due parti gruppo stampa che vedete sulla vostra destra gruppo di asciugatura sulla vostra sinistra è una macchina pensata per come dicevamo fare una grossa produzione e quindi deve essere anche una macchina pesante è una macchina che in questo sviluppo che state vedendo stiamo occupando circa 6 metri di lunghezza e per una profondità di circa un metro quindi abbiamo una macchina che è comunque molto che ha il physique de roll per cicli di produzione esatto importanti ma non bisogna bisogna andare a guardarla un po' all'interno ecco qua un po' di spoiler allora intanto vediamo nel gruppo di entrata è stato intanto vediamo questa ampiezza che c'è dei giri della carta perché dovendo lavorare su supporti fino ai 400 grammi su supporti molto lunghi abbiamo bisogno di mantenere una larga un largo ampiezza per quanto riguarda la voltura dei nostri fogli questo è il gruppo di ingresso che è un sistema a doppio ingresso grazie a questo sistema a doppio ingresso noi riusciamo a mantenere costante la velocità della macchina ed è previsto un sistema di registro doppio meccanico ed elettronico quello elettronico è quello che già avevamo a bordo della 15000 con la lettura in tempo reale dei formati che comunica le teste di stampa dove andare a scrivere quello meccanico va a fare un posizionamento di squadra del nostro foglio per poter avere sempre un punto zero costante quindi anche per quello che sono le applicazioni in campo che possono essere eventuali campo campo cartotecnico queste sono le teste di stampa faccio notare l'accessibilità dall'alto quindi anche dal punto di vista come dicevamo dello sviluppo smart è pensata in questa logica di essere una macchina molto semplice teste raffreddate a liquido sono teste chiosera queste teste hanno anche qua una vita di produzione estremamente lunga quindi questo permette di lavorare con estrema sicurezza su lunghi cicli di lavoro da questo punto di vista facili da accedere molto semplici da mantenere anche qua il concetto e qui lo vediamo in questa slide quello che stiamo vedendo che è tutto chiuso è dove è l'alloggiamento di stampa l'alloggiamento di stampa è fatto con la logica che si pulisce da solo il sistema quindi l'operatore non deve fare nulla di pulizia quei cassettini che vedete sotto neri sono dei cassettini che dove abbiamo un sistema di drenaggio continuo dell'inchiostro per mantenere sempre in efficienza le teste di stampa quindi le teste non si muovono mai a maggior garanzia della loro durata nella produzione e di mantenere costante le caratteristiche qualitative in più quando noi stiamo stampando solamente in bianco e nero perché la macchina può lavorare tranquillamente in monocromia senza problemi le teste colore vengono chiuse automaticamente quindi viene fatto un capping quindi a maggior efficienza ancora del nostro sistema in questo modo noi abbiamo sempre una macchina per quello dicevamo pronta e immediata perché è stata pensata proprio perché ci sia un basso impatto operatore l'operatore qua non deve fare niente sostanzialmente se non sostituire ogni tanto quei cassettini e sotto lì sono posizionate le sacche di inchiostro però non deve fare nulla a livello di pulizia è tutto in automatico infine abbiamo il gruppo di uscita dove nella parte superiore abbiamo il gruppo di asciugatura che è questo forno infrarossi che è modulabile in temperatura dall'operatore in funzione del tipo di carta che andiamo ad utilizzare e sotto si può apprezzare l'ampio sistema di voltura del foglio che è fatto da un doppio sistema quindi in realtà quando a seconda del formato con cui andiamo a lavorare lavoriamo con tutti e due i sistemi o con un sistema nel caso del metro con un sistema nel caso del 13-19 utilizziamo tutti i due sistemi e questo questo sistema di voltura stressa pochissimo il foglio perché fa sostanzialmente un mezzo giro sul foglio e lo rimette nel percorso carta mantenendolo sempre molto molto planare che è una delle caratteristiche fondamentali da dover mantenere sempre qua all'interno di questo sistema c'è il sistema di ispezione e controllo delle linee bianche e degli eventuali 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 get out e quindi la comunicazione immediata al sistema nel caso in cui ci dovessero essere problemi tutto questo ci consente di fare di che cose ci consente sostanzialmente di andare a stampare a 1200 x 1200 a 150 in pressione in minuto come state vedendo in tempo reale in bianche volto automatico questa è l'effettiva produttività della macchina che state vedendo in diretta e che abbiamo avuto il piacere di poter vedere poco tempo fa a febbraio presso il nostro centro di ricerca che è in Germania quindi la macchina è pronta per andare è già là è già pronta per andare a Drupal è già pronta esatto è già pronta per fare poca strada possiamo tornare in diretta grazie ma insomma l'hanno vista print in united in america esatto in giappone l'hanno vista e adesso l'hanno vista anche in Europa grazie a noi esattamente però se qualcuno volesse vederla prima di Drupal cosa può fare allora se qualcuno vuole vederla prima di Drupal siamo anche se qualcuno la vuole comprare prima di Drupal non c'è problema come sapete le vendite sono sempre aperte a parte le facce le battute basta che ci contatti direttamente può contattare direttamente me al mio indirizzo email che è alessandro.mambretti chioccioladit.chiocciera.com ma comunque è facile da reperire anche sui social di tutti i riferimenti oppure contattare direttamente chioccioladocumensolutionitalia o rispondo io o risponde Maurizio e diamo tutte le informazioni al caso e vi veniamo a trovare veniamo a trovare e capiamo assieme le esigenze che avete dal punto di vista della produzione e possiamo anche eventualmente anzi senza eventualmente andare in Germania e provare le vostre applicazioni quindi chi volesse prenotare una demo con i propri file può chiamarvi quindi fantastico anche prima di Drupal è sempre la cosa più divertente esatto soprattutto perché si va proprio ad accontentare il cliente nel minimo dettaglio esattamente direi che dopo tutto questo ci sarà una valanga di domande vediamo 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 la regia ecco di darci delle prime domande che sono arrivate allora qui dicono qual è quanto è più basso il costo copia colori bianco e nero rispetto alle production a toner questo andiamo su ecco andiamo subito andiamo subito sul allora quanto è più basso è più basso quanto dipende da ovviamente dei tipi di coperture tipi di lavoro che dobbiamo andare a fare però posso dire che siamo molto più basso veramente molto più basso è una delle belle caratteristiche della stampa in genere direi che ci avviciniamo se non addirittura ci allineiamo a quella che può essere una macchina toner bianco e nero tranquillamente ok quindi qui la domanda del TCO l'abbiamo un po' questa è una di quegli non mi stupisce prima domanda questa è proprio tanto è la prima domanda che facciamo anche noi i nostri colleghi ok perfetto bene poi andiamo sull'ingjet qui si parla di la tecnologia ingjet come si comporta in area dopo stampa quindi relativamente plastificazione nobilitazione con le varie tipologie di foil verniciature eccetera allora la tecnologia ingjet ha un grandissimo vantaggio perché l'inchiostro viene assorbito dal supporto quindi una volta che è perfettamente asciutto il nostro stampato e tendenzialmente asciutto subito è possibile tranquillamente sia plastificare sia nobilitare con applicazione di foil secondo quelli che sono i principi secondo quelli che sono i sistemi sia digitali sia convenzionali esattamente senza nessun tipo di problema si fanno sempre dei test questo ad esempio figlio ad esempio di quando mi ricordo un test che facevamo specifico per le etichette per il vino che è una delle aree dove si fanno moltissime nobilitazioni certo e dove c'è uno studio sulla qualità giustamente molto elevato per evitare ad esempio quando si fa l'applicazione del foil a caldo che non si ritiri l'inchiostro che non ci siano variazioni cromatiche dovuto l'utilizzo del calore però normalmente non ci sono questo tipo di problemi e quindi si riesce a lavorare diciamo che sull'embellishment ci siamo sull'embellishment ci siamo allora un'altra domanda dice è possibile stampare su carte patinate offset sia lucide sia opache e fino a che grammatura forse l'avevamo detto ma lo ripetiamo sia lucide che opache infatti questa è un'altra delle domande topiche che vengono fatte perché di solito sulle lucide effettivamente ci può essere qualche problema invece i risultati sono molto buoni anche lì anzi sono direi eccellenti anche lì dai 52 400 grammi questa è la grammatura poi diciamo che tipicamente sulle patinate si parte dai 60 grammi per andare in su sostanzialmente però possiamo lavorare esattamente su questo tipo di carte senza nessun tipo di problema c'è una domanda sul formato massimo di stampa anche qui l'avevamo magari lo ripetiamo un attimo formato massimo di stampa allora oggi lavoriamo formato massimo 33 per un metro quindi questa è la carta che possiamo andare ad alimentare o 33 per 48 e 8 questa è l'altra l'altra area di stampa la macchina stampa fino a 33 e 5 in realtà quindi l'area di stampa è molto più ampia quindi sostanzialmente l'abbiamo l'abbiamo bloccata sostanzialmente per poter stampare una domanda sull'inchiostro vedo gli inchiostri base acqua beh questo l'abbiamo detto pigmento polimerici può spiegare cosa vuol dire? certamente allora significa che all'interno degli inchiostri oltre alla parte acquosa oltre alla parte di pigmento che è la parte colorata c'è una parte polimerica che ha la funzione di fare da una sorta di attivatore nel momento dell'asciugatura quindi consente di mantenere la tensione superficiale della goccia su qualsiasi supporto e allo stesso tempo di poter far sì che l'asciugatura venga nei tempi rapidi che sono richiesti dalla tipologia della macchina questo vuol dire però questo però non va a compromettere il concetto di sostenibilità che dicevamo che dicevamo prima quindi stabilizza fissa velocemente evita che ci siano quelle diciamo che qui si entra poi nelle tecnicalità che a noi nerd ogni tanto piace buttarsi dentro quindi la deformazione della goccia mantenimento della dimensione faremo un salotto esattamente goccia a goccia allora stende un primer prima di stampare o un post trattamento no non stende il primer questa proprio è una delle più grosse soddisfazioni no non c'è bisogno di stendere primer non c'è bisogno di fare post trattamenti dopo la stampa si carica carta di qualsiasi tipo non ha bisogno neanche di un pretrattamento alla carta particolare o di necessario perché stampa senza nessun tipo di problema quindi non serve né primer prima né post trattamento dopo fantastico quindi un'altra domanda tecnica il sistema di stampa è certificato Fogra un attimo prima fatecela produrre e poi gli chiediamo a Fogra il certificato comunque dalle primi test che abbiamo fatto alle prime analisi ha un gamut che copre perfettamente quello che è l'attuale Fogra 51 quindi anzi lo supera decisamente si vede che si sono scatenati gli stampatori qui a fare le domande la lunghezza della macchina beh qui la lunghezza della macchina abbiamo detto andiamo a 6 metri poi a seconda della configurazione possiamo andare anche un po' più lunghi quindi questa è la sua area di ingombro deve essere una macchina ingombrante perché sia per la parte di asciugatura ma sia per poter gestire un metro di carta al proprio interno producendole in modo adeguato richiede uno spazio fisico necessario da ingombare a quest'altra domanda che vedo rispondo io sì la macchina sostituisce la precedente ma no ampliamo il portfoglio ampliamo il portfoglio esattamente esattamente è una macchina anzi la 15000 continua a vivere e continua a vivere nella sua area di mercato che sta sempre più prendendo piede adesso che è partito il volano non volevamo mica che ce la togliessero di mezzo anzi possono convivere le due macchine per certi aspetti si possono affiancare possono anche affiancare è possibile fare stampe fotografiche beh allora sì abbiamo fatto qualche prova su questo stiamo ancora diciamo è ancora in esplorazione abbiamo fatto qualche prova i risultati sono stati buoni i feedback che sono arrivati da parte dei primi clienti che abbiamo mostrato erano buoni e adesso entriamo in quella fase di sperimentazione di test veri e propri quindi benchmark qualitativi dati dai clienti per vedere il risultato finale però sì è possibile realizzare il photobook sicuramente è uno dei suoi campi di applicazione ottimo c'è un'ultima domanda beh qui c'è già qualcuno impaziente di fare un test quando è possibile quando è possibile fare i test allora diciamo che realisticamente dalla fine di marzo è possibile fare i test noi stiamo già raccogliendo una serie di richieste specifiche in questo momento stiamo definendo bene chiaramente quali sono le esigenze che ci che sono richieste in modo tale da arrivare prenotare i vari slot per andare a fare i vari test però possiamo già possiamo già farli i primi test i tipi di test possiamo già farli se riusciamo a come dire a definire bene tutte le specifiche sia qualitative sia di prodotto che si dobbiamo realizzare possiamo già mandare a fare dei test bene direi che abbiamo già venduto una macchina allora speriamo però e stalotti portano fortuna poi ci vedremo dopo a Drupa e mi racconterà ci vedremo anche a Drupa sì ecco per chi fosse interessato io sarò su tutto il tempo quindi ci sarò per quanto allo stand di Chiosseri saremo io per la prima settimana la mia collega Claudia per la seconda settimana quindi avrete sempre un riferimento un riferimento italiano all'interno dello stand e poi saremo lì presenti costantemente perché poi Drupa Drupa è sempre Drupa Drupa è Drupa Drupa è Drupa non si può mancare esattamente ringraziamo le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori e graziamo di essere stati con noi presenti ad ascoltare tutto questo storytelling su Chiocera Tasca Alf Pro 55000C ma anche la sorellina 15000C esattamente e se avete domande sapete a chi rivolgervi e vi salutiamo e vi ringraziamo ancora buona giornata grazie a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti